Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Siva in questo nuovo video di Fallout 4 Allora ho fatto un sacco di queste per cercare di far sì che Strong aumentasse la ripetizione E ce l'ho fatta, che cazzo sta succedendo? Ok, vediamo, sentiamo cosa dice Strong? Strong Ok Umano, dici a Strong cosa fare? Si, vorrei parlarti Madonna santa Qui Il diacolo, ok Fabio Hai un secondo bestione Strong prende decisione Ok dimmi Ok dimmi cosa hai deciso Decisione difficile per Strong Lui pensa e testa fa male Tu abile combattente Abile come super mutante Combatte con Strong tante volte Tu buon capo Meglio di Fist Strong ti segue sempre Tu adesso nuovo capo di Strong Oh benissimo Versa che presumo sia per corpo Comodo Se ci andiamo a guardare insieme Allora vediamo un pochino Ma togiti dal cazzo Grazie Vediamo un po' Abilità Talenti Bersack Bersacker Gatti te lo porto con Strong e figgi di 20% di danni in più con le armi da mischia Quando la salute è inferiore Ma io devo sempre essere bagattato per fare di più danni Non lo capisco sta cosa Va bene comunque finalmente è fatta Possiamo togliere dai marroni Non troppo fresca Tieni umano Mangia Si Congenna E ora che tu vada Buona idea Strong prende pausa da umano Strong torna alla torre Riposa Prima hai detto Ti seguirò Perché sei migliore Segui Adesso si si Buona idea Di separarci Mamma mia Ok Ah perfetto Io direi che siamo posti Io adesso posso scegliere sia Che prendere Quello di Goodneighbor Che è molto molto Interessante prendercelo O Prendere Coso Valentine Preferirei Che cazzo sta succedendo Questo Fa un casino Quell'individuo Micidiale Va bene vado in cerca Del tipo E ci vediamo fra poco Bisogno di aiuto Li aiutiamo Eccolo qui Guarda chi c'è Gita in vista Vuoi viaggiare? Facciamo Ti interessa ancora Viaggiare insieme? Perché no C'è ancora spazio Per un po' di avventura Nella mia vita Ok Facciamolo D'accordo Bene Ok Andiamo al vault Perché se no mi dimentico Ragazzi Veramente È una cosa Ci dico qui Dove Cavolo No Non mi interessa Scusatemi Ecco qui Annulla il blocco di sicurezza Andiamo al vault Per qualità Perché voglio Spero che ci sia ancora attiva la quest Io voglio fare Interessante Non l'ho mai fatta E poi andiamo alla cover Anche ragazzi L'ho detto già Che volevo farlo Ma mi è scappata fuori questa Che mi interessava di più E quindi per il momento Gli do la priorità Guardate che strong Non sia più tra i miei errori Perché era una cosa Indicente Non andava mai bene niente Porca miseria Ok ci siamo Vediamo un po' Speriamo che parli ancora Non sento parlare Ok Silenzio Poverino Si sono fatto male Ok Fammi sapere se devo portare qualcosa Certo Già stessi più carino degli altri Perché A meno non scassi i marroni Oh mi sconsigno il goal Dovrei ammazzare un attico va Oh Resistente il tipo È il momento di dirsi addio Eh eh Ciao È stato un vero piaciore Va bene Arrivo eh Faccio tutto Non mi preoccupate Comincio a prendere un po' di roba Perché comunque ci vuole Devo andare di là Ok mi va bene Voglio solo vedere un attimo Eh madonna Munizioni C'erano delle munizioni Incredibile Ce ne sono tante Eh Speriamo bene Facciamo le dita Che non sento più parlare Allora devo annullare Il blocco di sicurezza Che dovrebbe essere di qua Così Signor goal Mi dispiace È stato un incidente Allora Dice di qua Come ci arrivo di qua Qui non c'è nessuna porta Una tutta del volto Tanto trovo Sto facendo le collezioni Cassa del Pip-Boy Pip-Boy ha giunto Mi hanno giunto Pip-Boy Ah per carità eh Dieci Pip-Boy Ma c'è Un motivo Non hanno Non lo so ragazzi Riprendo Poi pazienza Va bene Andiamo là A sto punto Ho poca scelta Volevo girarlo Veramente Un po' Perché ci sono tante porte Serve un terminale Ok abbiamo Escuso ogni dubbio Ok Nastro Acqua Così varie Questo l'abbiamo ucciso adesso Andiamo di qua Mi scusi lei Potrebbe voler dire Oh Mi sono dato la testa in faccia Poverino Si sarà fatto malo Ok non c'è niente Tanta roba però La prima volta che trovo Così tanta roba In un vault Incredibile Terminalo Ah da qui devo farlo Interessante Io prendo tutto Come senza rispetto Proprio Guardate Ok Vediamo pure Vediamo un po' cosa dice Annulla blocco di sicurezza Fatto Trova la scheda di controllo Va bene Ma la tipa Che mi parla Bene Molto bene Ah ok Per funzionare le officine della Voltec Hanno bisogno di una scheda di controllo C'è soltanto Durante le emergenze Viene riposta nella sala del reattore Prova a cercarla lì Non capisco Se è un uomo O un ragazzino Oppure È una donna Ah non è che mi dici molto D'anni Domani arriva Barstone L'ennesima Pagliacciata Ma finalmente L'ingresso È completato Anche se Potrà Porterà persone importanti Se resteranno In quella sezione Sembrerà Un vero vault I ragazzi Incaricati Della costruzione Non sono male Abbiamo anche giocato A poker Per come Come vanno le cose Stanno qui a lungo Stanno qui a lungo Mi hanno invitato A una festa Per Halloween Ho proprio bisogno Di sbaggarmi un po' 29 agosto 27 agosto Non mi ricordo Finalmente abbiamo Un sistema di sicurezza decente Ma se Barstow Continua a portare qui Quelli Dei piani alti Sarà tutta mia La responsabilità Di eventuali Imprevisti La squadra di costruzione Continua a lamentarsi Di questi Bisogni di sicurezza Beh Che si lamentino pure Ok Andiamo pure A vedere Di andare Adesso in teoria È tutto aperto Quindi C'è questa porta Porta Aperta Esatto Però non porta Un cazzo Beh Sono andando contento Quindi abbiamo poche scelte Ci rimane poche scelte Sì adesso vado anche lì Vediamo un pochino Se c'è qualcosa di interessante Sì La porta chiusa Da questa Si è aperta Scusi Un attico Signor Goal Potrebbe morire Adesso ci divertiamo Sì mi diverto tanto Un amico Uh leggenda Gli ho fatto saltare Due gambe Un braccio Gli ho fatto saltare tutto Che cosa bella Allora Matita Schede di controllo della Voltec Ok Era quella che ci aveva chiesto Interessante Tappo Oh Salve signore Dovrei incominciare a usarli Infine Diceplicemente Danli da freddo E congelo i bersagli Con un colpo critico Solo col colpo critico Però Però non è male Lo sapete Dovrei incominciare a valutare Di portare scienza A livelli alti Perché se no Non posso modificarla Come vorrei Posso fare modifiche Molto basilari E poche Dipende poi sempre Dal materiale Dal Tipo D'ologia di arma Però quella La voglio ottenere In considerazione E incomincerò a tirare su Decentemente Senza Per poi portarlo al massimo Lo faccio tutta una volta Non lo faccio subito Il potenziamento Mano a mano Che sblocco un talento Se no ci mettiamo tutta la vita A vedere gli risultati Oh Interessante E quindi adesso E quindi adesso dove devo andare Devo spingere Qualche pulsante No non mi sembra Ah devo andare là Ok Scusate ma per me è tutto nuovo Quindi Ho bisogno di un secondo Per capire le cose Ok Dai una ripulita In che Oh ma Interessante Io salverei prima Scusate Visto che posso farlo Dai una ripulita Adesso va a capire Che cosa intenda lui Ripulita È un bel problema A capirlo Cos'intenda lui Per ripulita Cioè per me Ripulire questo Però probabilmente Non è così per lui Ok Vediamo un po' Cosa ci può essere Da punibile Forse Quel posto Che non si passava Cosa dite Allora qui dice Dove si può arrivare A massimo E mi interessa parecchio Ma secondo me Quel Quel posto Che Non si apriva Che era Più di macerie Vi ricordate Andiamo a vedere Se ci arrivo Perché bisogna vedere Anche quello Qui no Non è adesso Ricordavo Comunque dovremmo Dirmelo Più o meno dove Esatto Oh che bella cosa Bello bello Sono contento Olè 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 Perfettico Dai sono contento Perché questo Molo dei verde Lo potrà togliere Ok Ho come l'impressione Che questo sia un dilecci Così A caso Adesso vengo Da lei Signora Signolina O Qual voglia Si chiamare Persona Oh che bello Questo si che è ripulire Per me Questo si che è ripulire Proprio Proprio bello Salve Signor Gull Molto piacere di vederla Ma penso che Credo che queste cose Non servano a cazzo E quindi Se c'è qualcosa Ve lo metti in automatico Via Eccoci qua Così almeno Questa è pulizia per me Lo dico subito E' anche molto interessante Si Adesso arrivo anche da voi Un attimo solo Dai Non fate gli estrusi Eccoci qua Altra roba Container Eccoci qua Eccoci qua Altri container Benissimo Altra roba Qui spazzatura Si Beh Non so se ho fatto bene Comunque dopo ci guardo E basta In teoria In teoria In teoria si Ho fatto bene Perché si va Ok mi era preso un colpo Allora Incominciamo a vedere questi goal Cosa Se sono amici o nemici Julian Devo parlare Per te A quanto pare no Pensavo potessi parlare In qualche modo Ma Quanto al silenzio Ma porca Oh poverino Si è fatto malo Eh sì Evidentemente sì Ma sono forti Credo che sarà divertente Fare sto Mi penso sia un direcì Perché Mi sembra strano Non l'abbia mai visto E' un posto così Grande Comunque Facciamo con calma Prendiamo tutto Quello che è possibile prendere Guardiamoci bene intorno Vediamo se c'è un po' di storia Da poterci capire il contesto Porta blocco C'era qualcosa Se c'era qualcosa Che è importante O anche di robaccia Nella roba che ho riciclato Mi va in automatico Nella In automatico Mi viene riportato dentro al Come si chiama Lo stelter Dove c'è il Banco di lavoro di costruzione Mi viene in mente Come si chiama Come si chiami Quindi comunque va lì Non vi preoccupate Non mi ha perso niente Punizioni Maglietta Allora Punizioni si Bobina si Questo no Vediamo se c'è altro Una rivista L'avrei grandita Ma se è un DLC Dubito che ci sia Comunque Incominciamo a fare Un po' di piazza pulita Qui si potrà Far piazza pulita Vediamo Non ho ancora Capito Eh vedete Si Non ho ancora capito Dov'è il posto Esattamente che devo andare Perché dice 26 In quella direzione Vabbè adesso Ammazziamo un po' di gente Ma lei è molto grosso Lo sa Lei è veramente grosso Come Questo dovrebbe Eh mi sa proprio di no Dovrebbe poterle portare in vita Tutti i gol uccisi Ma A meno che non siano Menomati Ma io li Menomo Gli Come posso dire Gli Azzoppo sempre Dovevi scappare Eh si dovevi Ok Sto comunque cercando di capire Se c'è qualcosa di interessante Che Non mi voglio far scappare Allora In teoria Devo ammazzare tutti Posso parlare con lui Va bene Con lei O quel che sia Voglia dire Però io vorrei Trovare tanto Lo Come si chiama Lo stabilimento Adesso mi viene in mente Speriamo che Non sia Non abbia sbagliato A fare questa cosa E con questa mod È sempre un Un bo Chissà Ok Andiamo Perfetto Dove vai? Sono qui Eh mi dispiace Insomma non si fa così Oh salve Ma Questo è molto strano Questa cosa Vabbè andiamo a parlare con Eh immaginavo che ci fosse qualcosa Ma Che fosse un baule Però non Pensavo ci fosse niente Salve Lei è Una scusa Non sei ciò che mi aspettavo Hai un pip boy Una donna Vieni da un volt Ma non sei della voltek Vero? Che ci fai qui? Ah nel senso Perché mi hai aiutata? Nel senso Intendeva un dipendente Non un Un Residente Era la cosa giusta Non mi interessa Segnatore radio Beh tutte e due In effetti Era la cosa giusta da fare Che splendido senso del dovere civico Davvero lodevole Mi chiamo Valerie Barstow E sarei dovuta essere Il soprintendente di questo volt Vieni Seguimi Ho una proposta per te Sono stati 200 lunghi anni Ah però L'ho che c'è? Stavo presentando il mio orgoglio E la mia gioia Il mio volt Poi sono arrivate le scosse Le sirene I morti Forse i veri fortunati Sono stati loro Le Scusate Ho fatto Un livello Lo voglio Voglio subito Approfittarne Allora Vi ho detto scienza Scienza dovrebbe essere Lui con una pistola in mano Eccolo qua Eh Di livello 1 Io Sono un po' interdetto Sapete Perché Non so se lo userò subito La maggior parte delle amiche Che ho Non sono energia E quindi Non lo so Se vado in quella direzione Vado qua Basta Ho deciso In qualche modo Sono sopravvissuta Ho provato a raggiungere l'ingresso Con quella scheda di controllo Sarebbe stato tutto diverso Ma c'erano troppe macerie E l'equipaggiamento non bastava È stato il mio lavoro A tenermi in vita A darmi un obiettivo Ecco Queste carte contengono il lavoro di una vita Voglio condividerlo con te Il dottor Brown Mi aveva assegnato un incarico di primaria importanza Una serie di prototipi Ed esperimenti Capaci di ridefinire la società Ma come vedi Le cose non sono andate Secondo i piani Continua Ti ascolto Questo Volta doveva essere spazioso Occupato da personale competente Scienziati e sottoposti fidati Nonostante l'attuale stato delle cose Vedo una luce in fondo al tunnel Lavoriamo insieme Come partner No, chi di soldi è una poverina Qual è il mio ruolo? In questa contrattazione Ti trovi in un'evidente posizione di vantaggio Preferirei occuparmi del mantenimento del Bolt Se hai delle richieste Sarò felice di soddisfarle Ti chiedo soltanto di seguire gli esperimenti dei prototipi Ci sto Facciamolo Bene Eccellente Non possiamo cominciare senza la scrivania del soprintendente Per svolgere gli esperimenti Le informazioni del terminale della scrivania saranno vitali Ti affido il futuro del nostro Volt E il Volt 88 Ok, è sicuramente un DLC Perché non me li ricordavo tutti E non l'ho mai fatto questo Va bene Facciamo una quest o due Ma poi ci Continuiamo con il gioco basico Perché voglio fare ancora altre cose Allora Mi prego un po' di radiazioni Andiamo dove dice lei Che è circa qua Di là Ok, andiamo di là E vediamo un po' La scrivania dov'è Così almeno vedo Tutto quello che può essere tornato Ah, è proprio questa Secondo lei Trasferisce Vedete che c'è la roba Ve l'ho detto Tutta la roba riciclata O quello che c'era all'interno Magari delle casse Con dentro O all'interno qualcosa Andato a finire qui dentro Eh Però ce n'è tanta di roba Ragazzi Guardate lì che roba Qui si può costruire Le ossa Ah, probabilmente è la roba Che ho riciclata C'è all'interno Una cassa con delle ossa Probabilmente Era quello Ma tanta Tanta roba Ho anche Ho 20 Di queste addirittura Proviste Acqua purificata 27 Interessante Roba da mangiare Tanta Mamma mia Vabbè La forcina la prendiamo Materiali Una cofana Esagerata A parte le ossa Che non mi servono niente Va bene Io Cosa vuoi che faccia Non ho capito Scusatemi Costruisci la schivania Del sovrintendente Del voto Facciamola Dai Se la trovo Speciali Schivania del sovrintendente Ok Mi ha fatto prendere un colpo Ma esattamente Dove devo fare Ma io la farei qui dentro Dai Intanto Adesso metto un po' in ordine Magari Toggo un po' di cacate Togliamo un po' di cacate Queste si possono rimettere a posto Scusate Allora un attimo solo Visto che si può Metterei a posto un attico Ecco qua Oh dai Un po' più di ordine Qui si va via Questo va via Questo lo riutilizziamo Questo lo mettiamo qua Un po' di ordine Dai un po' di ordine Perché sennò si capisce un cazzo Perfetto Qui via Qui queste cose Non me le fa togliere Ah si me le fa togliere Perfetto Via Oh Adesso c'è un po' più di ordine Adesso sono un po' più contento Allora la schivania Cioè mi sembra un po' antisonante Mettere questo lì E lei si siede là Metterei qua vicino Così non lo so Troverò un posto difficile Se togliessi sta cosa Assurda Sarebbe meglio Deve la mettere vicina Allora facciamo una prova Così almeno siamo sicuri Io salverei Trovo a togliere sto coso Questa barattola Qui non mi serve a niente Ok Il letto lo spostiamo momentaneamente Così almeno sono un pochino a posto Questo lo riciclo Tanto vedete mi va tutto nel Nel vault Insomma ne avete capito Ok togliamo tutto Togliamo tutto Togliamo tutto Questo va tutto dentro Allora Via Via Vediamo tutto un attimo Perfettico Così almeno siamo a posto Oh Adesso mi piace di più Adesso possiamo mettere qualcosa Lì Così almeno siamo vicini E tanti saluti Ecco qua Ci vai Ci vai Ok perfetto Perfetto Lei adesso Cosa fa? La logistica Può darsi Quindi devo parlarti O devo aspettare Ecco Lei proprio Siede lì Vede tutto Mi sembra giusto Dai Ah si gira Penso che devo parlargli Sto po' Ti prego Di essere Indulcente Ho atteso Così a lungo Ma ora Bando alle chiacchiere Abbiamo del lavoro Da fare Questo vault Avrebbe dovuto Ospitare Un particolare Tipo di abitanti Dopotutto Condurre esperimenti Sugli umani Richiede dei candidati Perfetti Ah beh Ok Troviamo una cavia Troviamo una bella cavia Il manuale della Vault Sconsiglia l'uso Di quel termine Tuttavia Il senso è quello Vedo che hai già attivato Il segnalatore radio Del vault Bene Mentre aspettiamo Che la notizia Si diffonda Potresti approfittarne Per esplorare Il vault 88 Prova a rimuovere Un po' di macerie E dovresti riuscire Ad accedere Ad altri settori Dell'edificio Qualsiasi materiale O equipaggiamento Integro Potrebbe tornare utile Per gli esperimenti Ok Tutto chiaro Stranamente Però io direi Che è meglio Se proseguiamo Per le quest principali Queste le teniamo in pausa Le faremo Non vi preoccupate Ah C'è Ah Questo è proprio Un po' più insieme Quindi faremo Ma andrei Per le quest principali Quindi andrei A Da Diamond City A finire La quest Del Principale Per poi vedere Dove ci porta Quindi ragazzi Come al solito Vi invito A lasciare un like Un commento Se vi piace la serie E di farmi sapere Cosa ne pensate Per adesso Vi saluto a Shiva Ciao ciao